Per noi aretini c'è una rinuncia in più che dobbiamo fare ed è pesante. È la rinuncia che dovremo fare all'edizione di novembre della fiera antiquaria. L'edizione di novembre che sarebbe dovuta tenere prossimo fine settimana non si terrà perché il decreto senza possibilità di deroga ci dice che le fiere sono soppresse. La fiera antiquaria non si farà ad annunciarlo con tanta amarezza il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì con l'aggiornamento settimanale dei dati Covid. Nei giorni scorsi era stato proprio il primo cittadino ad annunciare che stava lavorando ad un protocollo da presentare alla Commissione Ministeriale per una fiera in tutta sicurezza. Ma dopo l'ultimo IPCM del Premier Conte di un lungo confronto con il prefetto è stato deciso di sospendere la prossima edizione della manifestazione. Anche se avessimo portato la metà dei banchi, li avessimo distanziati, avessimo messo i carabinieri a ogni angolo di strada, comunque in base al decreto ministeriale uscito ieri non può essere effettuato. Quindi per noi è una rinuncia. È una rinuncia che io spero si possa limitare e contenere soltanto al mese di novembre. Conte ha dato validità a questo decreto da stanotte a mezzanotte, dalla mezzanotte passata fino al 24 di novembre. Dopodiché in funzione di quello che avviene in questo periodo ci dirà, vedremo, se potrà essere riaperto qualcosa o se, come molti commentatori sostengono e come io stesso temo, si raddoppierà per un altro mese fino ad arrivare a Natale. Me lo aspetto, me lo sento scendere giù per il collo e dico che un'altra fiera annullata sarebbe per la nostra città veramente un peccato.